Delusione Napoli, delusione Gattuso, perché Gattuso ha perso, ha perso, Gattuso hai perso, sei stato distrutto dal tuo amico Pirlo. È la verità, è inutile che viene a dire, ma tu mi hai deluso al di là del fatto che lui mi diceva beh ma la Juventus si è dimostrata più forte e sicuramente si è dimostrata più forte. Allora se una squadra è più forte e noi vediamo il massimo, però tu non vai a fare un'intervista come ho visto pochi minuti fa in cui tu hai detto no ma tecnicamente tutte e due le squadre avevano giocato bene, poi gli episodi hanno deciso la partita. Che è vero, gli episodi sono stati a favore dell'uno dell'altro, Napoli ha avuto l'episodio del rigore, poteva ricambiare la partita, il primo episodio ha avuto quello di Lozano, quella è stata una bella azione, ma non è frutto di un gioco, non è frutto di qualcosa, è frutto dell'unica occasione in cui tu si è andato avanti. Demme si è trovato alla mia serata, il passaggio non era neanche per lui, lui si è trovato sulla via di Damasco e poi si è trovato a questo pallone, ha preso, ha dato questo bel cross e Lozano ha fatto il tuffo. Ma dico io signori, sì ma a parte questo, che hai fatto Napoli? Dice hai avuto un rigore, bene, questo hai avuto quel rigore ed è merito di Mertens e dell'ingenuità di McKenzie, come si chiamasse, eccetera così. Lorenzo l'ha sbagliato e qua non c'entra nulla, povero Lorenzo, qua chi sbaglia i rigori non cambia niente, pure Maradona ha sbagliato. Certo è un peccato vedere che magari aveva segnato domenica, potevi sbagliarlo domenica, che sei a zero, facciamo 5 a zero, ma almeno potevamo oggi magari vincere una coppa e sarebbe stata immeritata. E abbiamo avuto l'occasione, abbiamo avuto l'occasione anche alla fine, politana e cose, Scevski ha praticamente salvato di nuovo la porta, due grandi parate. Sì, però signor, diciamo la verità, queste sono casualità, sì, di momenti in cui qualche giocatore con qualche caratteristica insomma ha preso un'iniziativa per Di Politano nell'ultima azione, eccetera e cose. Signori, il Napoli ha giocato male, perché? Dici, ma certo, si sono impegnati, sì, ha una squadra ha controllato, nel senso che non ha fatto avere tante occasioni alla Juventus, sì, è vero, non è che la Juventus ha avuto tutte le sue occasioni, sì, è grazie, se tu giochi in difesa, se tu giochi per controllare i 90 minuti sostanzialmente, muovere pure che non prendi pure 30 occasioni, e ci mancava pure che nonostante avessi scelto di evitare che la Juventus avesse l'occasione, poi tu le pigliavi, allora sarebbe stato un fallimento totale. Ma la Juventus, sì, ma ti ha impedito, non sei stato in grado, la Juventus ti ha impedito, quindi Pirlo ti ha impedito di far sviluppare il gioco dei tuoi giocatori, è perché ti ha impedito, ti ha pressato, ti ha studiato e ti ha battuto, Pirlo ti ha guardato, sape come gioca, ha capito i tuoi limiti e ti ha battuto, giustamente tu limiti, ed è fatti perché tu avevi un gioco che è fragile, cioè un gioco che non esiste, non è un gioco forte che hai, non è che oggi, che nel momento in cui alcuni giocatori ti vengono eliminati, tu non sai che la palla chi le harà, non è che hai il gioco, l'hai dimostrato stasera, c'è il centrocampo, che cos'è? A un certo punto, Zelischi, che dovrebbe essere, non sei Zelischi, ma basta, io sono trent'anni che non vengo circa, ma tu ho capito, forse mi vuoi fare questa pubblicità, ero circa, togni, con questi giravolti, che faccia il centrocampo, ma il centrocampo è inutile, dunque, il fatto che Zelischi prende questa palla e si fa tungta, tangta, tungta, tangta al centrocampo, quella è la dimostrazione di un fallimento di questa squadra del gioco del Napoli, dimostra che non c'è il gioco, ma voi avete mai visto una squadra che gioca in una maniera, a centro, nel cerchio di centrocampo e non hai uno che sta guardando da verso la porta, è smista o qualche cosa, invece hai uno che torna al centrocampo, piglia questa palla, fun, 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 si gira, controgira, poi diciamo, roppa mezz'ora che ha fatto tutto il giretto, ma con che senso farlo questa cosa a centrocampo, guarda, guarda, non ti manca una palla che usava, delusione, mi sono scocciato di vedere Zelischi che fa così, o lo fate giocare bene, perché evidentemente ha anche dei limiti di cervello di Zelischi, quindi potrebbe essere un talento sprecato, perché se lui non capisce che, insomma, o tu hai la capacità di vedere, di fare cose, l'intuizione, ecco, come magari insegna a un certo punto, anche quando si trova, subito e ti dà la palla nello squadra, tu fai tutta una tarantella inutile, ma questo è il fallimento non solo tu Zelischi, è di Gattuso, perché se Gattuso prevede nel gioco della squadra che c'è un certo Zelischi che fa questa tarantella a centrocampo, quando non si è mai visto che a centrocampo uno fa i dribbling, chi è che fa i dribbling a centrocampo? Centrocampo è un momento di smistamento, passa là, arriva uno che si sgancia, con le spalle alla porta, quindi sei a centrocampo, con le spalle alla porta, qui un po' vedi che c'è sta là, almeno dà la prima che c'è sta, insomma, che senso ha questa tarantella? Definitivamente non esploderai mai più, la gente là parla, commenta come se tu fossi, no, tu non sei esploso, sono state illusioni, queste partite del 6 a 0 sono falsità, mi sono rivisto un po' casualmente la partita della Fiorentina, al trentesimo, la Fiorentina meritava di vincere 3 a 1 col Napoli, 3 a 1, sia chiaro, poi dopo c'è stata quell'azione e su 2 a 0 è crollata psicologicamente la Fiorentina, delusione, ottima Juve, complimenti, la Juventus ha dominato, dominato su ogni duello è stato vinto dal Juventus, ogni volta con questa cosa, quel Manolas che deve prendere sta palla, all'ultimo si avventurava dentro all'area sua a scartare persone, ma siamo impazziti, ha voluto, ha cercato di fare un tunnel, Manolas vuole fare un tunnel a Ronaldo, ma signori, ma stiamo impazzendo, ma rendete conto, dominati sotto tutti i punti di vista, e che squadra è questa qua? Sì, poi c'hai dei giocatori che ti possono inventare, hai avuto quella bella azione, quel colpa di essere di Lozar, basta, o prima tempo, sì, secondo tempo il rigore è stato là, l'ingenuità di un ragazzino, quel McKenzie che terrà 15 anni, 20 anni, voglio dire, e ti hai avuto un ricordo, ma non è frutto di un gioco, la squadra ti ha dominato la Juventus, poi alla fine si vince, basta una cosa e si può anche vincere la partita, Juventus ha dominato, abbiamo fatto risuscitare Ronaldo, Ronaldo lo segnava da varie partite e aspettava il Napoli, è chiaro, ci avete fatto quelle spizzate, ho la qualcio d'angolo su un petagno che ha chiudato, chi è, Bagaglio Go, ci ha andato sulla spalla, si è trovato e ha segnato, Bernardeschi lo avete fatto diventare una superstar, un giocatore che praticamente è la schifezza di tutti i giocatori, avrà fatto tre partite buone nell'arco dei 3-4 anni che sta a come si chiama, alla Juventus, è arrivato Bernardeschi, secondo tempo vinceva sempre duelle, poi sembrava chissà che giocatore fosse, signore ma vi rendete conto, io mi vergogno di Gattuso che ha detto che noi avevamo giocato bene, il Napoli ha giocato bene, già però non va bene, allora se questo è un giocare bene, io non metto in dubbio che le squadre hanno l'impegno, l'impegno ci sta, inutile a dire se si sono impegnati, ma abbiamo finito con questa storia, chi è che non si impegna, arriva la finale con la Juventus e non si impegna, è che non credino, è ovvio che si impegnano, però vuol dire se riescono a giocare, se possono giocare come si deve, allora a un certo punto, certamente, se poi una squadra ci ha dei limiti, ci ha dei limiti, però, ma se uno si mette e riesce a dare un gioco, questa volta, questa partita ha fatto capire, è inutile, è inutile questa quadra, non sviluppa un gioco, si basa su situazioni poi particolari, per esempio la palla arriva in insigne, ecco che Lozano si scatta e insigne fa così, Zelischi che nelle partite inutili ti caccia la giocata col tiro, così, e poi a parte qua, Zelischi devi dimostrare che sei un campione, che hai dimostrato? Ma guardate che cosa, il Circo Togni, il Circo Togni lo chiamo io, ha fatto pure oggi un tunnel, tunnel, tunnel a vuoto, ma perché hai fatto uno tiro, Zelischi? Ma perché hai fatto uno passaggio gol, Zelischi? Ma perché hai fatto perdere solo tempo al centrocampo a fare la tarandella per mezz'ora? Ma ci rendiamo conto? Comunque Gattuso, se il Gattuso si permette di dire, cioè lui può anche dirle alle telecamere, hanno giocato bene, ha sbagliato, ha sbagliato Gattuso, che non dire che la partita è stata equilibrata, ti ho sentito per televisione, hai sbagliato alla grande, la Juventus ha meritato, Pirlo ti ha distrutto e ha dimostrato che la Juventus è più forte del Napoli, ma è inutile che te ne vieni, se la Juventus è più forte del Napoli significa che arriverà sopra di noi in classifica, siccome già Milan-Inter è soffiuto per fare il lavoro, praticamente noi abbiamo un solo posto a disposizione per arrivare in Champions League, il quarto posto, però guarda caso, l'Atalanta, per fortuna che ho già pareggiato, Atalanta, Roma, Lazio, che se si ingarra la Lazio e le cose c'è, e chi altro c'è, se ancora qualcun altro, però, signori, 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 delusione completa, questa squadra non può andare nella Champions League, questa squadra non è da Champions League, non entra, non entra, perché ora si, vediamo, vediamo, per me è sempre la stessa squadra, sempre la stessa squadra, il limite è difetti, aboliamo i 6 a 0 e i 6 a 0 e i 4 a 0, basta Napoli, queste partite una tante non mi vanno bene, io voglio vincere una a 0 e voglio vincere sempre, voglio una squadra che sappia giocare, non farsi distruggere, ogni giocatore, pressione, ecco, ma tu non, o fai la pressione o non la fai, o fai qualcosa o non la fai, ma com'è possibile? Oggi ho visto una brutta squadra, si è impegnata, l'occasione l'ha avuta e poteva anche vincere, perché chiaramente Lozano segnava, al primo tempo magari, poi succede una cosa, oppure sul rigore dopo così, puoi risupplementare, puoi calciare i gol, potevi anche vincere, e vabbè, ce lo prendevamo, però tu adesso vedevi che il Napoli è una squadra inferiore alla Juventus, basta, e siccome la Juventus di quest'anno non è la Juventus solita, siamo ancora inferiori, quindi siamo una squadra, onestamente, siamo una squadra da Europa League, perché ci sono squadre superiori al Napoli, Gattuso mi è deluso, adesso, c'è il problema che c'è un centrocampo che non, che non, ma poi voglio dire una cosa, a proposito di questo, voglio parlare di Ronaldo, ora Ronaldo hai segnato tutto quello che vuoi tu, io ho sentito l'intervista di Ronaldo, Ronaldo sono tre anni che sei in Italia, ancora non sai parlare italiano, per fare intervista, per dire cose che sono quelle là, che lo capisce pure uno che viene dal Burundi, e capisce quando gli dice, ma la palla è entrata, ma guardate che questa è una vergogna, Ronaldo vergognati, io mi dispiace per i tifosi della Juventus, si offenderanno, io dico, vergognati Leonardo che tu non rispetti l'Italia, allora sei venuto qua per fare che cosa? Sì, per vincere, per dimostrare che puoi far vincere la Juventus, e non ci stai riuscendo comunque, eccetera, i soldi o quello che vuoi tu, ma io vengo in un paese, no? Io voglio capire, sono tre anni, tre, fai l'intervista in spagnolo o portoghese, ma vi rendete conto di questa cosa? Allora, Ronaldo parla perfettamente l'inglese, Ronaldo, perché è stato nel Manchester United, era ragazzino, e là si è imparato perfetto l'inglese, parla il portoghese, e parla lo spagnolo perfettamente, ora, tu che parli portoghese e spagnolo, manca dice, vabbè io parlavo cinese e turco, ma un po' bello e buono mi trovo con l'italiano, no, tu parli oltre all'inglese, il portoghese e lo spagnolo, due lingue latine, che vengono quindi dall'italiano, dal latino, che hanno le stesse cose, cioè, se tu, conoscendo bene lo spagnolo, il portoghese e lo spagnolo, sono tre anni e ancora non capisci lo cazzo questo italiano, sinceramente, sei una vergogna, poi sono problemi della Juventus, questi sono problemi dei tifosi della Juventus, se sono contenti, che non vi rispetta, perché Ronaldo non vi sta rispettando, io sono là, cioè lui non sa mancare o sta, hai capito? Sta là, va a casa, svegli la televisione, va con l'annamorata, va così e poi se ne frega, non manca dice che ha aperto un libretto, devo far vedere, come si dice, pallone, partita, calcio d'angolo, devo imparare qualche cosa, no, perché, vi ricordate Schumacher, Schumacher, poverino che dovrebbe essere ancora vivo, in là, non so come, in quelle condizioni in cui sta, Schumacher, Schumacher si era messo 10 anni, forse alla fine, alla fine incominciava a parliggiare, però ecco, là è anche uno sport diverso, cioè, non è come il calcio, che tu stai nel paese, lui poteva stare pure in Germania, poi finiva, faceva, e non c'era il pubblico, la cosa, faceva il corso, non c'era un contatto così, tu stai giocare, un anno intero, ogni tre giorni, ogni tre giorni, in mezza pubblica, interviste, cose e ancora ti imparai niente, vergognati, stai offendendo l'Italia, Ronaldo hai offeso l'Italia, comunque a me non mi interessa, mi interessa di Gattuso che hai offeso il Napoli, tu hai offeso il Napoli Gattuso perché hai detto, hai detto il Napoli è giocato bene, è giocato bene alla pari, hai fatto capire che hai giocato alla pari, niente, sei stato scamazzato da Pirlo, Pirlo sopra a saltarti, a saltarti e tu sei stato spiaccicato, è chiaro, mi hai deluso, comunque a parte quello ci sono dei limiti effettivamente nella struttura del Napoli, nei giocatori, se io vado a vedere il suo centrocampo, chi ci sta andando a questo centrocampo? Cioè, se Zielinski, che potrebbe essere la punta del centrocampo, nel senso della parte un po' più avanzata, ma fa fa fa, è una barzelletta, è una barzelletta, già non capisci che sia una barzelletta, fa 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 fa, io secondo me la casa torna, 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 gira a cava, chissà, è una barzelletta, non ho visto niente di buono in questo Napoli, mi dispiace, sono deluso, complimenti alla Juve, ha meritato, forse la Juve ancora può inserirsi, il Napoli si può scordare, non solo lo scudetto, ma anche il quarto posto, un miracolo, un miracolo, un miracolo per il quarto posto, questo è il gioco, il Napoli è quello che si è capito che non fa, l'unica cosa, prima di aspettare il Semen, preghiamo, se questo Semen viene, può essere che stravolge, quattro, tre, quattro, quattro e troviamo quest'ultimo tentativo, perché il Napoli, un miracolo per arrivare al quarto posto, vergognatevi, vergognatevi, gattuso e vergognatevi, anche Ronaldo che è zambarato l'italiano in tre anni, comunque sono fatto che a me non mi interessano di Ronaldo, arrivederci.